ciao a tutti benvenuti a questo inglese facile io sono sorella cook e oggi io voglio spiegare un po di delle cose basilare in inglese quindi è molto facile fare le parole plurali in inglese soltanto noi aggiungiamo un s alla fine come l'amica the friend plurale le amiche sarebbe the friends con un s alla fine è molto facile no? ma anche ci sono alcune irregolari parole per esempio uomo man plurale noi non diciamo mans e men uomini significa men anche la parola dona woman plurale non è womans e women è un po' difficile riconoscere quella differenza anche la parola child plurale non è child ma è children come bambino bambini child children se voi volete imparare di più di inglese di queste cose noi facciamo questo gruppo di inglese gratis qua all'Aquila ogni martedì e giovedì sera dalle 19 fino alle 20 a via Vezzano 11c scala d ed è stato facendo presto per evitare di comunque no 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 no